Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake al tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo zero, latte, olio, tonno sott'olio sgocciolato, uova, parmigiano, pecorino, lievito istantaneo per torte salate, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino e li facciamo dritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il nostro trito. Senza lavare il boccale mettiamo la farina, le uova e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Rieniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso il latte, l'olio, il pepe, il sale e li facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Aggiungiamo adesso il trito di formaggi, il tonno ed azioniamo il bimbi per un minuto, anti-orario, velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamo in uno stampo da bloom cake da 25 cm ben imburrato. Adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa. Il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Plum cake al tonno Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!